La Quarto Savona 15 è arrivata all'Aquila nell'ambito delle iniziative del premio nazionale Paolo Borsellino e la teca con i resti della Fiat Croma sulla quale viaggiavano gli agenti di scorta del giudice Falcone, colpita dalla deflagrazione di circa 500 kg di tritolo a Capaci, nell'attentato in cui morirono appunto i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, che viaggiavano sulla Quarto Savona 15, un viaggio della memoria che in Abruzzo ha avuto diverse tappe concluse all'Aquila, un'azione di memoria collettiva, 30 anni dalla strage di Capaci, che porta ancora un messaggio forte, un percorso itinerante portato avanti grazie a diverse sinergie, Polizia, Associazione Nazionale Magistrati d'Abruzzo, Associazione Falcone Borsellino e dagli organizzatori del premio nazionale ovviamente. C'è una frase sulla teca che dice che è vero che quella macchina è stata fermata, ma in cielo le ruote non servono, quindi continua a camminare e noi la portiamo in giro grazie a Tina Montinaro, grazie alla Polizia di Stato, affinché la gente, i ragazzi possano vedere di cosa è stata capace la mafia, ma di cosa poi siamo capaci noi invece con le nostre gambe. Oltre al disvilamento della teca, l'emiciclo ha ospitato anche un momento di approfondimento che ha visto tra gli altri la presenza del procuratore Michele Renzo, del magistrato Roberta Davoglio, di Franco Gabrielli, sottosegretario, di Emanuele Schifani, figlio dell'agente Vito e la vedova di Antonio Montinaro, appunto la signora Tina. Io dico sempre che ha avuto un marito molto coraggioso, un marito che ancora oggi dopo 30 anni continua a darmi tanto e quindi non potevo chiudermi in me stessa, ma portare proprio la mia testimonianza dappertutto. Certo, non è facile, non è semplice perché insomma vedere anch'io ogni volta i resti di quella macchina è chiaro che è qualcosa che a me fa male il ritorno a quel 23 maggio del 92, però dico ognuno di noi deve fare il proprio dovere. Il sottosegretario Franco Gabrielli, a di là dell'immenso valore di questa giornata, torna con piacere all'Aquila dove fu prefetto nel periodo più nero. Un piacere che ovviamente è intriso anche di ricordi, dei dolori, delle sofferenze che in quei 13 mesi ho potuto in qualche modo toccare con mano, quindi è sempre come dire una sorta di esplosione di emozioni, ovviamente all'Aquila ho lasciato un pezzo, come si usa dire non retoricamente, del mio cuore, ovviamente ci ritorno sempre con grande affetto, però non dimentico mai che tutto questo affonda in una tragedia.